Papà! Oggi ci pensa papà, tre padri siciliani su dieci utilizzano il congedo di paternità. Sono il doppio dei papà del Lazio e sono molto più numerosi della media nazionale, che è meno di uno su dieci. In generale sono gli uomini del sud e delle isole a dimostrarsi più disponibili ad assentarsi dal lavoro per stare vicino alla famiglia dopo una nuova nascita. Esattamente il contrario di quanto accade nelle regioni come Lombardia, Veneto e Piemonte. Insomma, più è alto il tasso di occupazione e minore la disponibilità dei padri a rinunciare al 70% dello stipendio per badare ai figli. E se l'uomo guadagna più della donna, come nella media italiana, conviene alla mamma più che al papà lasciare il lavoro nel momento in cui si diventa genitori. L'analisi di Assitec è stata svolta soltanto sulle aziende private e quindi non tiene il ragionamento che nelle regioni del sud gran parte dei lavoratori sia dipendente pubblico. Come allora che il nord non si ferma? Forse perché gli uomini che prendono i congedi sono quelli che guadagnano come o meno delle loro compagne o quelli con mogli che sono precari e per le quali quindi non è opportuno assentarsi. Un vantaggio comunque immediato per entrambi i genitori lavoratori con figli piccoli che potranno dunque conciliare meglio le esigenze aziendali con quelle familiari. I permessi non pagati possono essere richiesti fino al dodicesimo anno di età del bambino e non solo durante i primi otto anni come in precedenza. Il congedo di paternità che finora era previsto solo per i lavoratori dipendenti è oggi esteso a tutti i lavoratori. Anche gli autonomi quindi potranno utilizzarlo nei casi in cui la mamma sia impossibilitata a fruirne o a patto che non utilizzi gli stessi giorni di permesso.